Da domani gli impianti di riscaldamento potranno essere accesi, ma a Prato non per tutti. L'eccezione sono gli istituti superiori, dove il presidente della provincia, Francesco Pugelli, ha deciso di posticipare la data dell'accensione, visto il perdurare della stagione mite. I ragazzi sono grandi, ha spiegato, e quindi, nell'ottica di un risparmio energetico, abbiamo deciso di non far partire gli impianti di riscaldamento. Appena le temperature si abbasseranno, allora le caldaie saranno accese. Il piano di risparmio della provincia prevede anche una nuova modulazione degli orari, con lo stop nel primo pomeriggio, in modo da sfruttare l'effetto calore della mattina. I termostati nelle aule garantiscono anche un funzionamento intelligente, in modo da rispettare la temperatura massima di 19 gradi prevista dal decreto del 6 ottobre 2022.